Una bella giornata di festa democratica, un bel successo per il Partito Democratico, una partecipazione importante che consente, nonostante le difficoltà, un partito come il nostro di avere una speranza. Un risultato chiaro rafforza il PD, soprattutto anche in prospettiva delle amministrative, a Genova, alla Spezia e negli altri comuni dove andremo al voto l'11 giugno. Quindi è un bel successo. Abbiamo dimostrato che attraverso un percorso di partecipazione e di trasparenza, nonostante le difficoltà, il PD c'è ed è importante e con una sua forza oggi tanti volontari e tanti elettori che sono partiti da casa, nonostante il ponte, e hanno dedicato il loro tempo per andare al seggio e votare il segretario del Partito Democratico. Credo che sia la più bella risposta a tutte le polemiche dei giorni scorsi e a tutti coloro che volevano affossare queste primarie in senso lato.